Buongiorno, benvenuti. Buongiorno, benvenuti a una nuova settimana con Family. Oggi parliamo di alimenti perché noi, come si dice spesso, siamo ciò che mangiamo. Quindi sostanze presenti nei nostri cibi, potere nutrizionale, salubrità degli alimenti sono elementi fondamentali da conoscere, ma non sempre invece conosciamo bene che cosa mettiamo sotto i denti. Quindi potete chiamarci, se avete curiosità, potete chiamarci in diretta allo 0430. Scusa, non possono chiamare in diretta. Eh lo so, ma va, pensavo che... Eh no, perché altrimenti chiamano, non c'è nessuno. Tu tagli? Eh vabbè, non sapevo, pensavo di dover far finta. Eh no, però non te l'ho detto. No. E rifacciamo la telemedia. Tutto? Sì, l'accio, sì. Ah, va bene. No, di nuovo la sigla? Sì. Sì, l'accio, sì. Sì, l'accio, sì. Buongiorno, benvenuti a una nuova settimana con Family. Oggi parliamo di alimenti. Noi siamo ciò che mangiamo, lo si dice spesso, ma è fondamentale conoscere la salubrità degli alimenti, le sostanze che ci sono poi contenute e naturalmente la provenienza e il valore nutrizionale. Come facciamo a saperlo? Non sempre conosciamo così bene quello che mettiamo sotto i denti e quindi ci si deve rivolgere ad alcuni esperti che analizzano la situazione. Uno di questi è Alessandro Sfreddo. Buongiorno, benvenuto a Family. È un analista degli alimenti del CATAS, il laboratorio di San Giovanni Annatisone, che si occupa di diversi tipi di analisi. Spesso sono stati ospiti da noi, dal legno al pellet. In questo caso invece parliamo di sostanze alimentari. Dottor Sfreddo, la prima domanda che mi viene è quella che il cittadino, il consumatore, deve essere responsabile di quello che acquista, deve saper leggere l'etichetta. Quindi voi, attraverso una serie di analisi, anche contribuite a redigerle queste etichette. Che cosa andate a guardare dentro gli alimenti? Si guarda a quello che è previsto dalla legge. C'è stata anche un'evoluzione normativa recente su quello che deve comparire in un'etichetta nutrizionale. Noi analizziamo dalle proteine, ai grassi, agli zuccheri, carboidrati, eccetera. Si arriva a un'informazione sul contenuto calorico totale. Tutte queste informazioni vengono consegnate al cliente attraverso un rapporto di prova, che è quello che si chiama certificato di analisi, e il cliente ne fa l'uso proprio. Cioè da questo può redigere una corretta etichetta nutrizionale. Quindi il vostro cliente, la vostra interfaccia, è chi produce gli alimenti o chi gli scatola, insomma in alcuni casi, e quindi serve appunto a fornire delle informazioni poi all'utente finale che è il consumatore. Certo, certo. Da questo punto di vista il problema del consumatore non è tanto forse quello di leggere l'etichetta nutrizionale, che per quanto tecnica è abbastanza semplice. Io penso, vedendo coloro che mi stanno attorno quando faccio la spesa, che forse la grossa difficoltà è riuscire a leggere e interpretare correttamente l'ingredientistica, che molto spesso ci si trova di fronte a un'etichetta lunghissima che forse è anche non molto ben interpretabile se uno non è del mestiere. Certo, allora lei ci può anche un po' aiutare a capire meglio questa etichetta. Per esempio, quali sono le parole chiave a cui dobbiamo stare attenti per capire magari la provenienza, per capire che cosa contiene quello che vogliamo comprare e quindi insomma magari ci può fare un po' da cicerone in questa lettura un po' più approfondita dell'etichetta. Ma certo, il discorso della provenienza è un discorso su cui si sta dibattendo sempre di più e probabilmente sempre di più si sarà legati alla provenienza e alla tracciabilità del percorso che ha fatto l'alimento fino a noi, dalla produzione a noi. Invece, per quel che riguarda l'ingredientistica, bisogna sapere che è in ordine decrescente, quindi i primi ingredienti sono quelli maggiormente contenuti. E poi c'è una regola aurea, secondo me, che quando ci troviamo di fronte a delle etichette interminabili vuol dire che c'è un po' di tutto dentro, c'è tanta ingredientistica, anche tecnologica a volte, quindi. Ecco, per esempio, facciamo un esempio banale, se io in un dolcetto, in una merendina, trovo che il primo ingrediente è lo zucchero, vuol dire che è quello che è presente in maggiore percentuale. Assolutamente sì, non solo, probabilmente, a meno che non sia un prodotto molto umido, se vado a vedere poi l'etichetta nutrizionale troverò un contenuto energetico sicuramente molto elevato. Ecco, in alcune confezioni si trovano anche delle semplificazioni dell'etichetta, per esempio, c'è tutta la dicitura corretta e poi, non so, c'è per la colazione completa tre biscotti, una mela e una tazza di tè. Ci sono anche queste varianti un po' più fruibili, un po' più comprensibili. Quanto c'è di vero in questo, in questo passaggio? Ma quello è un passaggio che non è obbligatorio per legge, nel senso è l'azienda produttrice che vuole mettere alcune indicazioni permesse in etichetta. Quello che fa fede è senz'altro la lista degli ingredienti e l'etichetta nutrizionale. Ecco, che cosa, quali sono le brutte sorprese che possiamo trovare però in un'etichetta? Allora, e poi le faccio un'altra domanda su quello che era il nemico pubblico numero uno e che forse non è poi così così cattivo cioè l'olio di palma ma prima le chiedo le brutte sorprese del... Ma le brutte sorprese è acquistare un alimento che si ritiene costituito in un certo modo e poi scoprire dentro che invece ha un'ingredientistica completamente diversa per cui ripeto come dico sempre la regola aurea in questi casi più breve è la lista degli ingredienti meno lavorato è il prodotto questo non significa necessario però c'è un indice di semplicità certo quindi insomma almeno anche lì sarà comunque più facile capire cosa c'è se non dobbiamo leggere papiri a questo proposito c'è sempre una un po' una polemica che riguarda gli alimenti la cosiddetti light che poi light potrebbero non essere in quel caso cosa devo guardare cosa vado a leggere l'apporto calorico effettivo l'apporto comparato per 100 grammi come si legge quel discorso si legge proprio così nel senso che se per light intendo con un contenuto limitato apporto calorico senz'altro nell'etichetta nutrizionale troverò un contenuto energetico molto limitato questo sì senz'altro ed è sempre così oppure quello che viene magari sbandierato poi non è così vero se è light sicuramente è così poi bisogna vedere che cosa contiene l'alimento che fa un pochino le veci per esempio dolcificanti dello zucchero che non c'è questo è l'aspetto che va indagato sicuramente quindi insomma sempre massima attenzione le avevo promesso che le avrei chiesto di quello che appunto fino a qualche mese fa era il nemico pubblico numero uno l'olio di palma allora perché si è usato tanto in che contesti e quali sono i danni che può fare e perché poi insomma alla fine forse le cose sono un po' cambiate ma l'olio di palma è stato ed è usato tanto perché ha delle proprietà proprio tecnologiche ideali per esempio per l'industria dolciaria cioè cosa fa cioè fa sì che il prodotto venga molto bene c'è sicuramente un discorso anche di costo e di disponibilità ovviamente il problema è che ha un profilo di acidi grassi saturi che sappiamo tutti che non fa molto bene perché veicola il colesterolo rendendolo un po' pericoloso eccetera d'altro canto va detto che è stato demonizzato male non fa però è sempre correlato alla quantità nel senso che ovviamente ci siamo trovati improvvisamente ad assumere un quantitativo di acidi grassi saturi forse un po' come una volta quando si usava molto di più il burro solo che a differenza di un tempo forse la nostra attività quotidiana un po' più sedentaria è un po' meno vigorosa diciamo così decisamente anzi ed è sempre indicato l'olio di palma in etichetta o può passare sotto diversi nomi insomma può essere un po' mascherato è indicato è indicato è indicato così come è indicato l'altro ingrediente che adesso lo sta pian pianino sostituendo con i prodotti che è l'olio di girasole generalmente ok e qui in quel caso i danni sono minori oppure semplicemente danni non ci sono danni sono una possibilità di ha un profilo di acidi grassi completamente diverso quindi comunque stiamo andando in meglio la battaglia tra virgolette del consumatore ha funzionato comunque diciamolo tutto che una volta che si è coscienti e abbiamo deciso è tutto secondo quantità l'olio di palma non fa male se è assunto nelle giuste quantità certo solo che se non presto attenzione a dove lo posso trovare chiaro se mi imbevo un cucchiaino lo so che lo sto bevendo se lo trovo nel biscotto nella merendina nello yogurt non so lo posso sapere solo leggendo le faccio una domanda sul burro perché c'è una questione interessante che è immersa ci sono popolazioni per esempio in Francia anche in Gran Bretagna loro usano molto proprio il burro quello di panna di latte eppure paradossalmente il loro diciamo stato di salute quindi la colesterolemia della popolazione non è così evidente non è così grave come potrebbe essere come si potrebbe ipotizzare visto il consumo appunto di burro da dove deriva questo paradosso? premettiamo una cosa per non dare informazioni tendenziose che comunque la cardiopatia rimane una delle principali cause di morte del mondo occidentale del mondo tra virgolette ricco d'accordo premesso questo esiste uno studio che ha dato luogo al cosiddetto paradosso francese in cui ci sono questi paesini dove magari si consuma in particolar modo grassi saturi tipo burro eccetera però ed è forse un messaggio non molto non molto da dare pubblicamente però c'è anche un discreto consumo di vino magari rosso e quindi pare che le cose si compensino e potrebbe essere anche un fattore genetico in realtà sicuramente ci possono essere mille altre variabili però meriterebbe sicuramente un approfondimento noi continuiamo a parlare di alimenti dopo una piccola pausa restate con noi Bentornati a Family Casa siamo in compagnia di Alessandro Sfreddo che è analista degli alimenti del CATAS di San Giovanni al Natisone con lui abbiamo iniziato un discorso interessante e importante sulla lettura delle etichette alimentari appunto che cosa dobbiamo sapere come possiamo capire cosa stiamo mettendo sotto i denti abbiamo parlato di appunto di Cibilite abbiamo parlato di olio di palma adesso dottor Sfreddo le faccio una domanda se l'olio di palma appunto è sempre considerato è stato considerato cattivo uno dei cattivi tra virgolette invece soprattutto sul web soprattutto su internet si trovano periodicamente delle panacee rimedi meravigliosi per tutti i mali del mondo dai reumatismi al raffreddore al tumore qualsiasi cosa magari appunto semplicemente assumendo una spezia una sostanza mi vengono in mente due esempi banali uno è l'olio di cocco che veramente serve sembra che serva per tutto e un altro è la curcuma di cui si fa molta pubblicità quanto c'è di vero in queste insomma in queste notizie ecco in queste elogi di queste sostanze ma questo è l'esempio che ci conduce a riflettere un attimino come al solito sull'uso con criterio di internet che si può fare soprattutto le notizie che si trovano per quanto riguarda queste panacee io mi soffermerei su una considerazione prendiamo la curcuma adesso va di moda la curcuma cura tutto eccetera io credo che il nostro fisico che si veda la curcuma sicuramente ha delle buone proprietà è anche buona diciamo è buona ha un buon sapore però io credo che il nostro fisico che si vede improvvisamente dopo migliaia se non milioni di anni introdurre quantità considerevoli di una cosa che non ha mai visto prima forse per quanto bene possa fare sicuramente crea degli scompensi la stiamo vedendo per caso oppure è cannella questa qui ma no quello probabilmente ha o che potrebbe essere un curry un curry un curry visto il colore noi analizziamo parecchie spezie in questo momento si stanno facendo delle prove di salubrità del prodotto sì perché insomma il problema magari delle spezie è la conservazione dal luogo di provenienza alla nostra tavola ci sono diversi aspetti primo di tutto che è un prodotto di campo quindi comunque viene direttamente dalla terra e poi deve essere stato lavorato nel senso essiccato molto spesso e poi conservato e trasportato in modo corretto insomma certo naturalmente e anche da noi si coltivano delle spezie magari mi viene in mente lo zafferano però poi non lo so sulle altre ecco se ci siano delle coltivazioni un po' più estese ma alcune specie ed erbe aromatiche tradizionalmente si coltivano anche da noi in questo momento le grandi quantità che servono all'industria o comunque al mercato provengono spesso dall'estero e spesso anche extra europee extra unione europea beh ci sono delle condizioni climatiche certo anche perché qui a volte non crescono proprio il caso dello zafferano è un caso un po' particolare perché adesso c'è questo tra virgolette boom di produttori locali perché è una spezia assolutamente la più costosa che c'è in circolazione è molto laboriosa bisogna fare degli investimenti per cominciare a produrlo costa molto ma se ne produce anche molto poco quindi in regione si sta cominciando e si produce dello zafferano però tanto per capirci chi arriva a produrne un chilo è già un discreto produttore capiamoci certo le dirò anche una curiosità che forse non sa a detta dei gestori dei direttori dei supermercati è anche una delle cose più rubate nei supermercati perché è maneggevole e ha un costo esagerato e quindi spesso viene intascato impropriamente questa non la sapeva ecco vede si impara sempre appunto abbiamo detto che voi Alcatas fate anche le analisi sulle spezie però ha cambiato anche il consumo negli ultimi anni appunto una volta magari non faceva parte dell'alimentazione ma neanche italiana forse neanche europea insomma così tanto ecco non erano un elemento invece adesso c'è comunque la mescolanza delle cucine delle arti culinarie anche con i nuovi arrivi anche con i contatti con i viaggi e quindi forse insomma si va anche a cercare più di una volta questo tipo di sapori ma certo questo è dovuto anche al fatto che c'è un'evoluzione nel consumo anche degli alimenti come ovunque succede se noi andiamo in una grossa città estera troviamo delle possibilità di consumo di cibi che qui si comincia adesso ad avere per cui è abbastanza comune trovare un ristorante giapponese o un ristorante indiano o di qualche altra nazionalità molto è stato molto lontano da noi mentre fino a poco tempo fa questo non avveniva e il trend è in quella direzione per cui l'utilizzo anche di questi prodotti senz'altro è in crescendo assolutamente e invece per quanto riguarda i prodotti chiamiamoli locali chiamiamoli chilometro zero effettuate delle analisi proprio anche sui piccoli produttori piccoli medi produttori del Friuli Venezia Giulia su cosa vi concentrate in particolare? ma io ritengo che noi siamo abbastanza calati sul territorio per cui si rivolgono a noi anche i piccoli produttori non so gli agriturismi per esempio che che ne so trasformano il maiale in insaccati oppure fanno anche delle conserve o delle semiconserve vegetali o anche di frutta e vengono da noi per fare le analisi chimiche e microbiologiche per accertare la corretta produzione del prodotto quindi la sanità e anche il buon risultato della produzione quindi c'è coscienza insomma anche in questo una volta probabilmente si faceva in caso quasi in casa appunto e non certo la differenza però è quando lo si fa in casa per il consumo proprio c'è un c'è un certo approccio sì dei protocolli non verremo certo mentre invece c'è la coscienza è ben più ben più elevata nel momento in cui si produce per la collettività c'è tutto il sistema nazionale di controllo eccetera eccetera dobbiamo pensare che in Italia la prima legge quadro sugli alimenti è del 1962 e da allora esiste ed è ufficializzato il controllo pubblico e tutto ciò che segue insomma quindi insomma siamo abbastanza attenti per una volta anche siamo come ci collochiamo a livello europeo siamo ben messi io ritengo che siamo molto bravi molto bravi questa è una bella notizia perché di solito siamo sempre i primi a fare mia colpa però stavolta possiamo essere orgogliosi i casi negativi succedono e ci saranno sempre speriamo sempre di meno ovviamente però il livello è secondo me molto alto ecco le faccio un'ultima domanda insomma oppure andiamo verso la conclusione c'è il discorso appunto anche della concorrenza dei prodotti di altri paesi non so mi viene in mente rispetto al parmigiano i prodotti di similformaggio che vengono commercializzati in altri paesi ci sono degli strumenti per difenderci anche degli strumenti che derivano magari dalle analisi chimiche o microbiologiche in questo senso? Ma lì lo strumento in realtà è dato dalla tutela del prodotto nel senso che un parmigiano fasullo passatemi il termine non fa certo male ma molto probabilmente non si avvicina nemmeno alla qualità del prodotto originale che tutela questo c'è il marchio ci sono tutta una serie di protocolli da un punto di vista analitico viene caratterizzato il prodotto buono però poi viene tutelato dal marchio e quindi dall'etichettatura e dal consorzio di tutela quindi è come se voi vi preoccupaste di fare il DNA di questo prodotto poi però insomma appunto la tutela la promozione e la valorizzazione dello stesso è in carico ad altri insomma magari anche dal punto di vista direttore legale certo certo però voi insomma analizzate e dite questo è il vero parmigiano questo è il vero prosciutto noi non ci preoccupiamo di parmigiano ovviamente ci sarà il consorzio di tutela che si occupa di questo però noi garantiamo certe caratteristiche del prodotto all'origine certamente fate le analisi anche su un prodotto che è tipicamente friulano che è insomma i cereali la polenta certo e garantite ecco anche quello la sua forma base sulla polenta qualcosina facciamo ma soprattutto lavoriamo sulla materia prima quindi sui cereali quindi sul mais eccetera e da noi arrivano i produttori o gli acquirenti o gli essiccatoi o i mulini o quant'altro per accertarsi che il prodotto sia al meglio cioè sia esente da tutti quei problemi che possono poi riportarsi sul prodotto finito che può essere la polenta piuttosto che gli altri prodotti con cui si fanno certo vi capita è attaccata spesso diciamo la polenta o il mais da polenta è attaccato da non so muffe piuttosto che agenti particolari lei ha toccato il problema succede può succedere che in annate un po' sfavorevoli ci sia la crescita di alcune muffe che producono delle tossine naturali ma dannose estremamente dannose per cui noi rassicuriamo il produttore o chi altri ci porta il prodotto sulla bontà del prodotto ecco quindi insomma possiamo stare abbastanza tranquilli anche perché se il prodotto non dovesse essere a norma c'è una normativa europea che disciplina tutto quanto viene declassato e quindi va o ad alimenti per animali oppure viene declassato ulteriormente certo insomma quindi anche diciamo con l'aiuto della chimica o del laboratorio possiamo conoscere un po' meglio quello che mettiamo in tavola senza naturalmente tradire poi il principio fondamentale che è la responsabilità il buon senso e l'attenzione per tutto quello che ci circonda certo certo come ha detto lei all'inizio noi siamo quello che mangiamo e il cibo ci accompagna da quando veniamo al mondo fino a quando ce ne andiamo e quindi assolutamente dobbiamo porre una notevole attenzione in questo però qui da noi diciamo che l'attenzione è alta secondo me benissimo allora dottor Alessandro Sfredo io la ringrazio per essere stato con noi in questa puntata di FENI ringrazio anche voi per averci seguito vi ricordo che potete scrivere un'email a family at ilfriuli punto it e vi do appuntamento a domani buona giornata a 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 Grazie a tutti.